Come ti chiami? Angela della Corte Quanti anni hai? 23 Titolo di studio? Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e d'Impresa Perché sei qui? Perché sono appassionata delle risorse umane in tutto ciò che riguarda questo ambito Descriviti con tre aggettivi Determinata, destarda e socievole Ci vuoi dire qualche altra cosa di te? Adoro fare sport, qualsiasi tipo di sport e amo viaggiare Grazie